Posso da filmare? Che c'entro io? Cruce e botte. Per me sono tutti matti. Tu vedrai, deve essere successo qualcosa di grosso. E più non ti mandare. Ambulanza! Come mi portate? Piazza San Salvo. Ma come? Per che cosa, scusa? Le feste. Le San Giovanni. Qui chiedi. E lo dice tutto loro. Mi divieto. Bisognerebbe mettere tutti i cazzo in Gervais. Sono indispensabili per portare la pace e la democrazia nei paesi sottosviluppati. Ecco, sì. Allora, a te tu ne metti lì. E ti pensi che gli basti cambiarsi la maglietta perché lui è nostro? Vabbè. Naturalmente, grazie a lui, il gentil terremoto che con l'amabile suo moto tremare le case fa. Ce ne vorrebbe uno al giorno, ma purtroppo... Senza l'economia si va poco lontano. Ormai tu sei una sta... Chiarugi, Cavallo Pazzo, numero uno. Antonioni, Capitano numero dieci. Benedito. Tutti i calciatori e questa trasmissione. Si ha legato Gesù Cristo. Sempre signor. Vecchietto. 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 Quando vengo passata lo può vedere io, Vecchietto. Ma dai, è proprio un bel giovanotto. Noi ci aspettavamo uno a noi. Siamo tutti con noi. Lapo! 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 Io sono Lapo Forsini. Vediamo un documento. Vecchietto. 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 Vecchietto.